i cartelli stradali il signor darsley si riscosse da quei pensieri e allontanò il gatto dalla mente mentre si dirigeva in città non pensò ad altro che al grosso ordine di trapani che sperava di ricevere quel giorno ma una volta giunto alla periferia della città avvenne qualcos'altro che gli fece dimenticare i trapani bloccato nel solito ingorgo del mattino non pote fare a meno di notare che in giro c'erano un sacco di persone vestite in modo strano gente con indosso dei mantelli il signor darsley non sopportava le persone che si vestivano in modo stravagante bastava vedere come si conciavano certi giovani immaginò che si trattasse di qualche stupidissima nuova moda mentre tamburellava con le dita sul volante lo sguardo gli cadde su un capannello di quegli strampalati vicinissimo a lui si stavano bisbigliando qualcosa tutti eccitati il signor darsley sentì montare la rabbia nel constatare che un paio di loro erano tutt'altro che giovani ma che roba quello lì doveva essere più anziano di lui e portava un mantello verde smeraldo che faccia tosta poi però pensò che potesse trattarsi di qualche sciocca trovata ma certo era gente che faceva una colletta per qualche motivo sì doveva essere proprio così poi il traffico riprese a scorrere e alcuni minuti più tardi il signor darsley giunse al parcheggio della grannings con la mente di nuovo tutta presa dai trapani nel suo ufficio al nono piano il signor darsley sedeva sempre con la schiena rivolta alla finestra se così non fosse stato quella mattina avrebbe avuto ancora più difficoltà a concentrarsi sui suoi trapani lui non vide i gufi volare a sciami in pieno giorno ma la gente per strada sì e li additavano a bocca aperta guardandoli passare a tutta velocità uno dopo l'altro sopra le loro teste la maggior parte di quelle persone non aveva mai visto un gufo neanche di notte ciò nonostante il signor darsley ebbe il privilegio di una mattinata perfettamente normale del tutto immune dai gufi uscì dai gangheri con cinque persone diverse fece molte telefonate importanti e qualche altro urlaccio fino all'ora di pranzo il suo umore si mantenne ottimo a quel punto decise che per sgranchirsi le gambe avrebbe attraversato la strada per andare a comprarsi una ciambella dal fornaio di fronte aveva completamente dimenticato le persone con il mantello fino a che non ne superò un gruppetto proprio accanto al fornaio mentre passava scoccò loro un'occhiata furente non sapeva perché ma lo mettevano a disagio anche queste bisbigliavano tutte eccitate ma di cassette per raccogliere le offerte non ne vide neanche una fu passando loro accanto di ritorno dal fornaio con un'enorme ciambella in un sacchetto che corse qualcosa di quello che stavano dicendo i potter proprio così è quello che ho sentito già il figlio harry il signor darsley si fermò di colpo fu invaso dalla paura si voltò a guardare il capannello come se dire qualcosa ma poi ci ripensò attraversò la strada precipitosamente e raggiunse in tutta fretta il suo ufficio intimò alla segretaria di non disturbarlo per nessuna ragione afferrò il telefono e aveva quasi finito di fare il numero di casa quando cambiò idea mise giù il ricevitore si risciò i baffi pensando no era stato uno stupido potter non era poi un nome così insolito era certo che esistessero miriadi di persone che si chiamavano potter e avevano un figlio di nome harry e poi ora che ci pensava non era neanche tanto sicuro che suo nipote si chiamasse proprio harry del resto non lo aveva neanche mai visto avrebbe potuto chiamarsi harvey o harold non c'era ragione di impensierire la signora darsley se la prendeva tanto ogni volta che le si parlava della sorella e non poteva darle torto se l'avesse avuta lui una sorella così tuttavia quella gente avvolta nei mantelli quel pomeriggio trovò molto più difficile concentrarsi sui suoi trapani e quando lasciò l'ufficio alle cinque in punto era ancora talmente assorto che appena avarcata la soglia del palazzo andò a sbattere dritto dritto contro qualcuno scusi bofonchiò mentre il poveretto un uomo anziano e mingerlino inciampava e per poco non finiva lungo disteso ci volle qualche secondo perché il signor darsley si rendesse conto che l'uomo indossava un mantello viola lo metto però non sembrava per niente offeso dal fatto di essere stato quasi scaraventato a terra al contrario un largo sorriso gli illuminò il volto e con una vocina stridula che destò l'attenzione dei passanti disse non si scusi mio caro signore perché oggi non c'è niente che possa turbarmi si rallegri perché lei sa chi finalmente se n'è andato anche i babbani come lei dovrebbero festeggiare questo felice felicissimo giorno a quel punto il vecchietto abbracciò il signor darsley cingendolo alla vita e poi si allontanò il signor darsley rimase lì impalato era stato abbracciato da un perfetto sconosciuto poi pensò che quel tale lo aveva chiamato babbano qualsiasi cosa volesse dire era esterefatto si affrettò a raggiungere la macchina e partì alla volta di casa sperando di aver lavorato di fantasia cosa che non aveva mai sperato prima perché non approvava le fantasie non appena ebbe imboccato il vialetto del numero 4 di private drive la prima cosa che scorse e che certo non contribuì a migliorare il suo umore fu il gatto soriano che aveva visto la mattina seduto sul muro di cinta del giardino era assolutamente certo che fosse lo stesso i segni intorno agli occhi erano identici so gli gridò il signor darsley il gatto non si mosse si limitò a fissarlo con sguardo severo il signor darsley si chiese se normalmente i gatti si comportassero così cercando di riprendersi entrò in casa era ancora deciso a non dire niente alla moglie la signora darsley aveva passato una buona giornata in tutto e per tutto normale a cena gli raccontò per filo e per segno i guai che la signora della porta accanto aveva con la figlia e poi che d'adley aveva imparato una nuova frase non voglio il signor darsley cercò di comportarsi normalmente una volta messo a letto d'adley se ne andò nel soggiorno appena in tempo per sentire l'ultimo telegiornale e infine da tutte le postazioni gli avvistatori di uccelli riferiscono che oggi sull'intero territorio nazionale i gufi hanno manifestato un comportamento molto insolito sebbene normalmente escano di notte a caccia di prede e ben di rado vengano avvistati di giorno fin dall'alba sono stati segnalati centinaia di gufi che volavano in tutte le direzioni gli esperti non sanno spiegare perché tutta un tratto i gufi abbiano modificato il loro ritmo sonno veglia lo speaker si lasciò scappare una risatina molto misterioso e ora la parola a jim guffin per le previsioni del tempo si prevedono altri scrosci di gufi stanotte jim francamente ted rispose il meteorologo su questo non so dirti niente ma quest'oggi non sono stati soltanto i gufi a comportarsi in modo strano gli osservatori di località distanti fra loro come il kent lo yorkshire e dandy mi hanno telefonato per informarmi che al posto della pioggia che avevo promesso ieri hanno avuto un diluvio di stelle cadenti chissà forse si è festeggiata in anticipo la notte dei falò ma gente la notte dei falò è soltanto tra una settimana comunque posso assicurare che stanotte pioverà il signor darsley rimase seduto in poltrona come paralizzato stelle cadenti in tutta la gran bretagna gufi che volano di giorno gente misteriosa che si aggira dappertutto avvolta in mantelli e quelle voci quei bisbilli sui potter la signora darsley entrò in soggiorno portando due tazze di tè non c'era niente da fare doveva dirle qualcosa si schiarì nervosamente la voce petunia mia cara non è che per caso hai sentito tua sorella ultimamente come aveva previsto la signora darsley assunse un'aria esterrefatta e adirata in fin dei conti erano abituati a far finta che non avesse una sorella no rispose seccamente perché ma non so altre giornali hanno detto cose strane bofonchiò il signor darsley gufi stelle cadenti e oggi in città un sacco di gente strampalata e allora sbottò la signora darsley niente pensavo soltanto forse qualcosa che avesse a che fare con capito no con lei e i suoi la signora darsley sorseggiò il tè a labbra strette il signor darsley si chiedeva intanto se avrebbe mai osato dirle di aver sentito pronunciare il nome potter decise che non avrebbe osato e invece con il tono più naturale che gli riuscì di trovare disse il figlio dovrebbe avere la stessa età di dudley giusto credo di sì rispose la signora darsley rigida come un manico di scopa e com'è che si chiama a ward no harry che poi ho un nome terribilmente ordinario se proprio lo vuoi sapere eh già disse il signor darsley con un tuffo al cuore sono proprio d'accordo salirono in camera per andare a dormire senza più dire una parola sull'argomento mentre la moglie era in bagno il signor darsley si avvicinò guardingo alla finestra della camera da letto e sbizzò fuori nel giardino il gatto era ancora lì stava scrutando prive drive come se aspettasse qualcosa la sua fantasia che si avvicinò guarda